Sarà gratuita la sosta a Viareggio dal 5 dicembre al 6 gennaio prossimo. Il provvedimento è stato approvato venerdì mattina dalla giunta del Ghingaro e si inserisce nella scia degli aiuti ai cittadini e alle imprese messi in campo dall'amministrazione riguardo l'emergenza Covid-19. Il comune di Viareggio, infatti, uno dei primi in Italia, tra marzo e giugno aveva predisposto una serie di aiuti per un totale di oltre 4 milioni di euro, dagli sconti sulla tariffa rifiuti alla diminuzione dell'IRPEF, fino all'abolizione delle rette, dei nidi e dei centri estivi, ma anche il solo pubblico azzerato per bar e ristoranti e l'eliminazione della tassa di soggiorno. Sul fronte in mobilità, la sosta, dopo la sospensione durante il primo lockdown, era rimasta gratuita nella fascia oraria serale 8.20, comprese le marine e la passeggiata, lasciando libero anche il parcheggio dell'ex gasometro in centro. Una volta tornati in zona arancione, inoltre, quest'ultimo provvedimento, un mese di sosta gratis, potrà dare una spinta anche al piccolo commercio a ridosso delle festività natalizie. Tengo a precisare che è solo il primo di una serie a cui stiamo ancora lavorando e in prospettiva per il 2021, in modo da poter far ripartire l'economia cittadina, ovviamente messa in crisi dall'emergenza epidemiologica che stiamo vivendo, considerando anche il fatto che il nostro bilancio è un bilancio sano e che ci consente naturalmente di fare questo tipo di interventi. Grazie.